Rinvio delle scadenze fiscali e bancarie e agevolazioni per affrontare la crisi è quanto chiesto dal presidente di FederDoc, la federazione dei consorzi di tutela dei vini italiani, al ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova. Nelle scorse ore, le aziende del settore vitivinicolo a denominazione di origine, spiega il presidente Riccardo Ricci Curbastro, si trovano in un momento di grande difficoltà a causa del blocco o del rinvio degli ordini di prodotto, sia sul mercato interno che su quelli extracomunitari. Anche le attività integrative di agriturismo e denoturismo, ha precisato, hanno subito una fortissima flessione, pregiudicando ulteriormente la situazione. La federazione delle DOC italiane chiede quindi testualmente misure straordinarie che consentano di affrontare e superare questo momento di crisi ed evitare che questa epidemia crei danni irrecuperabili ad uno dei settori pilastro della nostra economia, con oltre 100.000 operatori coinvolti ed una produzione in valore di circa 9 miliardi di euro all'anno. La delicata situazione del comparto, che inoltre può pavese, conta su oltre 1.500 aziende agricole di ogni dimensione, è testimoniata anche dal rinvio di alcune delle più importanti manifestazioni del settore a livello internazionale come ProVine di Düsseldorf e Vinitaly di Verona, che dovrebbe svolgersi nel mese di giugno.